Una servezza conquistata da protagonisti, quello che si chiedeva già nella partita con la Fiorentina, il Cagliari l'ha fatto contro il Milan quando poi non aveva più bisogno di punti. Ecco, la mentalità giusta, quella che a noi piace di più è la mentalità che il Cagliari ha messo in campo sul campo rosso-nero, senza guardare in faccia nessuno, senza scansarsi, senza fare nessun tipo di irreverenza a giocatori e a squadre che sono potenzialmente più forti di noi. E' il Cagliari che ci piace di più, è il Cagliari che abbiamo riscoperto in sole sette partite, perché poi per il resto era un Cagliari invece con l'esatto opposto. E' questa la mentalità giusta, è questa la strada a percorrere, cose semplici come il nome dell'allenatore, giocatori al loro posto, gruppo compatto e meritocrazia che possa valere anche all'interno dello spogliatoio. Senza alchimie, senza pensare di essere più bravi degli altri, senza esperimenti, senza pensare di poter fare i soldi a parate con ragazzini che fai arrivare da altra parte e che non sono ancora pronti a giocare. La squadra base deve essere questa, in tempi cupi come quelli che si prospettano, dove anche le grandi squadre avranno difficoltà a fare i grandi acquisti, conservare i giocatori migliori, fare in modo che questi possano essere supportati da quelli che sono i difetti corretti rispetto al passato. E ce ne portiamo dietro di alcuni che sono veramente ormai attavici, vedi il discorso esterno. Ecco, con una squadra corretta rispetto a quella che abbiamo visto ieri in campo col Milan, il Cagliari l'anno prossimo può dire la sua. La mentalità è quella giusta, la strada è quella giusta, guai interromperla. Il ritorno di Capozucca probabilmente ci dà delle garanzie da questo punto di vista, perché c'è comunque qualcuno che è in società, comprende di calcio, ed è in grado di poter anche dire la sua negativamente talvolta se le idee non sono quelle giuste. Non bastano gli yes men, ci vogliono anche personaggi che sappiano discutere, che sappiano portare delle idee diverse, che sappiano portare un confronto che possa essere un confronto costruttivo per il bene del Cagliari, non perché si vuole rovinare l'idea di qualcuno. Da questo punto di vista siamo cresciuti tanto in solo 7-8 partite e questo la dice lunga su quanto abbiamo mandato le ortiche, in tutto il periodo precedente. Tutti i due aspetti vanno considerati, tutti gli errori fatti da non ripetere, tutti i pregi che abbiamo riscoperto che vanno conservati. Guai se il Cagliari dopo queste 8 partite abbandona la strada e ricomincia con idee astruse, con idee che possono sembrare dei grandi progetti che poi di fatto non fanno altro che far ricominciare ogni anno il discorso senza portare quella continuità che serve per diventare una squadra che possa mettere radici in determinati settori e che possa soprattutto avere come idea, come obiettivo quella di crescere ogni giorno di più, ma partendo da quello che hai. Ecco, una prima dichiarazione, non mi vedo da altre parti, dice il nostro capitano, assecondiamolo perché noi abbiamo bisogno di uomini che abbiano la maglia che è tatuata sulla pelle. Grande Joao. Grazie.